42.56 la misura di Martina Tagliavento in pedana Marissa Talacci atletica estense come confermata la stessa atleta prima di entrare in pedana dice un attimo stiamo prendendo le misure e la confidenza con la pedana questo primo turno di Lanci basi nell'altra pedana venino siamo a 1.65 con Pastore e e e e Diciamo che a occhio quindi nel tutto ufficioso siamo intorno ai 48 metri per entrare tra le prime e otto ma ripeto ufficioso così da un calcolo a occhio e anche con l'aiuto dei dei giudici in pedana abbiamo Talacci, Vanessa Talacci atletica estense lei ha un 55 quindi seguiamola wow non basta e allora vi presentiamo le finaliste del Martello Allieve giudice arbitro Stefano Peron iniziamo dall'ottavo risultato 48-41 che Alice Lazzaro Cussa Pavia Noemi Carminati Propatria Buso Alzizio 48-77 qualificazione Laura Lazzarato Atletica Melignani Libertas Udine 50-37 Melissa Casirachi Team Lombardia 51-54 Carol Agnese Yvonne Asov Atletica Firenze Marathon fino a questo momento 51-67 e quindi Marta Faillaci Battaglio Custorino Atletica 51-76 il suo lancio il primo e quindi ancora Vanessa Talacci Atletica estense 55-33 con il miglior lancio il finale 55-78 Giulia Rossi Fiamme Gialle Simoni Lazzarato Atletica come detto ha effettuato in questa gara il suo realizzato il suo personale con 51-76 adesso è la volta di Vanessa Talacci che ha un 55-33 quindi anche in questo caso per l'atleta dell'Atletica estense c'è stato un miglioramento seguiamola Vanessa la ricordiamo Roberto l'anno scorso su questa stessa pesana settima tra le prime tre del 2004 del primo anno della categoria lieve e sta facendo un'ottima gara quest'anno vuole dare questo lancio personale di oggi fresco nonostante il calmo 55-33 Atletica estense Siamo lì e qui dovrebbe fare un grande scloa cosa che ha già fatto oggi andando al suo personale ma oggi se le cose vanno nel verso giusto può accadere di tutto e dovrebbe migliorarsi di tre metri per passare in testa si può fare tutto può accadere guarda che è un'ottima tecnica eeeh eeeh eeeh